Claudio Tavagnini, da pochissimo, rientrato ad Alcamo dalla Palestina, quindi dagli ambienti di guerra, qual è la verità, quella che hai visto sul posto? Perché poi chiaramente i media si schierano e raccontano le cose ognuno a modo loro. Sono rientrato alla fine di ottobre, quindi ho seguito varie settimane dopo l'inizio delle guerre. E chiaramente come la vivono i palestinesi è completamente diverso da come si racconta da noi. Da noi l'informazione vuole che poveri israeliani devono difendersi, invece sappiamo che i palestinesi sono da 70 anni sotto il piede di questa occupazione che non li lascia respirare. Quando si ribellano, può succedere quello che sta succedendo. E non è nell'interesse né di Israele né della Palestina. Gli israeliani vivono solamente nella paura, nello 6 o 7 ottobre. E vedremo appunto venerdì sera di raccontare un po' tutto quello che ho visto e seguito in questo periodo. Bene, allora venerdì sera c'è questo incontro moderato da Vittorio Rasmati che tra l'altro ti stai mettendo a capo comunque con un gruppo di persone per creare un movimento, un'associazione. Beh, io in questo momento rappresento Terrenzo Misa che più che un'associazione appunto è un progetto, un punto di riferimento all'interno delle reti di associazioni e gruppi che si attivano sul territorio regionale ma anche nazionale e utilizziamo un approccio interculturale. In questo senso quindi è molto importante riflettere su quelle che sono le realtà, i conflitti ma anche le proposte di altre parti del mondo. e cerchiamo, lavorando anche sui termini della cura, di uscire fuori da questa area della crisi continua, di questa emergenza cercando di valorizzare nel piccolo quelle che sono le cose che noi possiamo fare, mettere in atto ma anche circondarci di persone che effettivamente già stanno facendo. Quindi con questa iniziativa cercheremo di restituire e dire un grazie profondo a tante persone come Claudio che sono attive da tanto tempo sul territorio nostro e in altri territori ma anche per iniziare un dialogo di formazione su delle tematiche che ahimè non ci colpiscono direttamente ma dove noi siamo anche responsabili essendo comunque esseri umani siamo un po' uniti in tutto il mondo. Tu sei anche un operatore sanitario, ti chiedo la gente quanto sta soffrendo questo susseguirsi incalzante di emergenze emergenze, emergenza su emergenza, la pandemia, la guerra, la crisi economica? Guardi, io rientrando nel Messico ho svolto la mia attività al centro della pandemia a Crema negli ospedali di campo, poi sono arrivato qua in Sicilia sicuramente come il discorso sanitario, come la gestione della terra e del territorio il continuo ritrovarsi all'interno delle emergenze non ti dà la possibilità di concentrarti sulla relazione che hai tu con queste problematiche e come interagire quindi io nei contesti attualmente di crisi, di emergenza, urgenza, trovo molto panico e quando si cerca comunque di rinquadrare con delle informazioni invece il risultato è quello di allontanarle dal problema e non si capisce più come interagire insieme quindi questo isolamento, chiamiamolo come l'hanno detto anche loro, che più umano si sente e ripercuote sicuramente il nostro benessere, la nostra salute Allora Claudio, l'appuntamento è per venerdì sera alle 20 dove? Al Marconi, con oltre a me come relatore ci sarà Antonio Mazzeo, giornalista internazionale Ti sei fatto un'idea di come questo conflitto possa terminare? Perché sembra veramente una storia infinita a parte da, diciamo, mettendo da parte le proprie convinzioni politiche che poi sono pure sacrosante ma secondo te c'è una via d'uscita? Certamente, da tutto si esce in qualche modo bisogna vedere se usciranno peggio per quale lato però quando è cominciata la cosa il 7 ottobre tutti sapevano solo che qualcosa cambierà cosa e come è ancora da vedere